avevo sto sbrogliando un attimo anche qua quando mi soffi il naso mamma come ben sentite ma non potete vedere continuo da non star bene ma proprio leggermente meglio ma leggermente devo parlare di meno sto video buongiorno a tutti ragazzi ovviamente buonasera, buon pomeriggio e buonanotte dipende da quando lo vedete il video visto che è sempre pubblicato H24 ragazzi ripeto per l'ennesima volta se vi va iscrivetevi al canale iscrivetevi al gruppo facebook il link nell'info commentate mettete il mi piace ragazzi è gratis mettete il mi piace è gratis domani è giovedì domani ci sarà un piccolo aggiornamento ma proprio piccolo cioè non ci sarà nulla praticamente toglieranno solamente la scritta carnevale e oggi lo provo da poi rigore sembrava fuori drogba segna e niente ragazzi che cosa vi devo dire quest'anno a distanza di tre anni fra un po' facciamo quasi tre anni io non sono mai stato così male sì ho avuto nonostante io faccia vaccina difensale i vari vaccini per i cazzi miei dei polmoni e per altre cose perché io in passato ho avuto già un problema prima del covid anni fa sa che la bambina è portatrice di virus ma quest'anno io da distanza del post covid non sono mai stato così male che vi devo dire allora raga ieri mi sono fatto visto che sono a casa malata raga un po' di film un po' di cazzi e mazzi mi sono giocato pure alle challenge online e quindi ho preso un po' di ricompense dai quindi avevo 5.190 monete vi avevo detto se superavo 5.190 monete giravo faccio un giro a Schmeichel faccio un giro a Schmeichel di questi nessuno toglierà la domani questi fra una settimana quindi giovedì prossimo c'è un monitorio di ragionamento vabbè è molto buggato raga molto buggato parecchio buggato moltissimo ma non me lo darà mai col cazzo lo da no no Lukic ex Torino via dai basta non vale la pena gattanto no 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 non mi va non lo sapete allora ho continuato a fare qualcosa di test my limit deck ma cazzo che andando a ci pomeriggio scade qualche altra me la faccio raga allora vi faccio vedere che vedete niente questi sono le solite cacate poi mi continuo a fare questa uffa allora questa continua l'ho fatta l'ho fatta e questa poi la continua per prendere le abilità che vediamo una volta che abbiamo accento l'abilità cominciamo a dare seriamente a chi dobbiamo dare allora questa l'ho continuata a fare ma giusto uno o due ho fatto sali e scendi in che senso nonostante vedete io l'ho vinta l'ho pareggiata Goldrick in CACX divisione 1 sì e questa 0-0 è la partita più scandalosa che abbia mai fatto però ripeto questo fa il conteggio degli ultimi 15 non misto delle 15 tipo che squadra non mi ricordo se era così dai facciamola ora e se vengo vi dimostro cosa succede perché adesso sotto quelle 15 che ho fatto ho fatto un filotto di sconfitte quindi se dovesse pareggiare o vinci dovrebbe dare 2 o 1 2 o 3 punti ragazzi ragazzi divisione non me le porto perché c'ho da finire ancora la championship open che ho anche quella iniziato l'ultimo come la possiamo chiamare l'ultima sfida ecco vedete 3 tacchi oggi è così ragazzi cominciamo bene buongiorno spero non sia mia connessione prima squadra di Milano a poi minchia tutti interisti ma vabbè questa la perdiamo ragazzi un 3100 quasi forza squadra minchia il Simone come sta eh cioè ragazzi guardate queste statistiche di portiere puttana maiala non so neanche il cazzo questo è vabbè come oh viena come sta che fa non lo metti certo gutti o no il resto diciamo che sta bene qua si gioca senza pensieri ragazzi eh quindi questo pure l'argentina minchia la cosa ma voi siete malati vabbè non so perché stanno giocando ultimamente parecchi parecchi vabbè mi fa dire altri vediamo ma perché domenica mi perde la palla l'anno in volto Cristo santo perché sta solo ma le spelle ma io non l'ho schiatturato ma meno male ma io non ma io non la monica no meno male no non l'ho capito raga come ma dai cross questo fa il di più oh no è la madò ma dai raga non me lo fa rivedere ma che vergogna è sto gioco mamma mia vabbè che cazzo ve le vuol dire mi hai rotto già i coglioni tu con sto gioco gioco te lo dico vabbè vabbè ma che mai cazzo si fa a dare questi passaggi ma guarda 2 a 1 ma dove cazzo la dai la palla la palla ma è tra ma ora sta faccio di più quanto mi state sul cazzo quando volete fare qualcosa di più è segnata a culo stai a fare il di più ma perché fate di più se non lo sapete vedete come segnano questi vedete vedete come segnano questi si devo parlare raga vabbè vabbè che cazzo devo commentare ragazzi ditemi io questo vabbè poi non c'è non c'è nessun criterio l'ho dimostrato ieri o avanti ieri che avversario sto trovando top 100 al mondo ma c'è davvero niente raga a uomo sta giocando sta giocando a uomo vabbè che cazzo ti devo dire che ho giocato a uomo grazie a tutti 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 non riesco a dire nulla raga di questo io ovvio che sa giocare ma mi sta sul cazzo si prendono i bustati che corrono è questo il gioco che fanno a correre eh questa è stata che sbaglia i passaggi da un metro madonna mia ma guarda quanto ci ha messo dalla palla Vabbè Ma dove cazzo? Vai Madonna mia come sta smarmellando Ma guarda quello dove va? Ma che cazzo sto vedendo? Madonna 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 mia santa E che cazzo? Ha detto che sta giocando a uomo Avete visto? Su Del Piero sta E che cazzo? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vabbè dai, babbo. L'avete visto tutti eh? Ma si può dare una palla del gen secondo voi? Ma che sta solo quell'imbecile? Vabbè? 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 Dai, perché poi dovrebbe essere più veloce, no, mettiamola, però la gara, c'è, dai, dai, almeno un'altra, noi facciamo sì, poi dobbiamo fare tre punti su tre. Non l'ho visto avversario, bravo Nico, mi chiede dove cazzo? Non so di che paese, dai, non che stiamo a vedere tanto, sono tutti uguali, pure tu che cazzo vedi? Cioè, deve giocare per forza con la squadra. Mamma mia, ragazzi, che brutta bestia. Certo che io dopo il Covid, sono sincero, ma l'ho preso in culo. Dici, ma tu dovevi avuti il Covid? Per chi non lo sapesse, ho avuto il Covid aggressivo due settimane in terapia intensiva, in ospedale. da te ne ho preso in un'unica, in un'unica, in un'unica. Oltre, ci sono un'unica, in un'unica, in un'unica, in un'unica, in un'unica, in un'unica. Questo non gioca, ragazzi, che cazzo vedevo lì. Non gioca. B. Non gioca. B. Complimenti. Tutti gli occhi. B. 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 Non ho capito perché fate così, ragazzi. B. 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 cazzo di palo ho dato, vedi poi giocalo, ma dove cazzo vai, ma come non è riuscita? Questo è un manuale, gioca, vediamo, mi sa di sì, ma perché va, e che cazzo, non so chi abbia segnato, ma basta, avete visto lo stop e si è girato gol, per chi non l'avesse mai visto giocare, io sì raga, io ho avuto la fortuna di aver visto giocare dal vivo, tranne Ronaldo e Messi, mi sa, i giocatori più forti della storia del calcio di tutti i tempi, tranne Pelé, uno su tutti Maradona, è chiesto di me, Maradona me che da vai a lei, dico, ma non lo so più da che punto, anche Pelé raga, uno dei giocatori più forti della storia del calcio, il giocatore, mi ha rotto già i coglioni, questo è scemo proprio raga, ma è scemo, a quanto quota la stupidità di questo raga? va bene, e me lo mette in culo, poi dite che non fanno nulla questi, ah? va bene, 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 madonna mia, ma come cazzo si fasse così come? Vai! ma non ho tirato in porta io, disonesto! io devo capire perché ogni volta che basso il calcio d'ango devo subire contro il piede e gol, meno male, è una cosa scandalosa sto gioco, mi ha rotto i coglioni stavversa, ma dove cazzo la dai? ma come cazzo sta smarmellando oggi raga? vabbè… il nervoso che mi sta venendo raga voi non avete idea, mi sta venendo un nervoso di quelli mai visti raga! quest'altra rovesciata vuole fare un mi test perchè? perchè non è merito ecco qua perchè meno male meno male i zarazzuani ma co... ma buttolo fuori mia uca ma... ma vai a cacare vai ma vai a cacare vai a cacare vai con chi si abbatte le punizioni gli segni il gol pezzo di merda di gioco ma fai di nuovo il kickoff fai guardate il kickoff guardate e vabbè pampe focaccia ma dove fuori gioco? ma porca troia che schifo di gioco pezzo di merda di gioco benzema 40 anni io non ho più parole raga non ho più parole veramente questo è scarso io non riesco a giocare contro questo mamma mia grazie 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 non voglio parlare non non mi va proprio raga non c'è nesta che viene boh sbalzato da sto coglione di benzema ma guardate c'è guardate quanto ci metto, guardate vabbè mi sto trattenendo dal nervoso vabbè, voi non avete idea tre gol in tre secondi ho preso tre gol in tre secondi 35, 30 vabbè, tre secondi per noi va bene va bene 35, 38, 40 guardate quanto ci mette ad aprire una cazzo di pagina ma ci rendiamo conto un'altra cazzo di pagina 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 Ma perché Sminchiata di nuovo la squadra Ma non è Ma Beckham Ma dove cazzo andate Ma mi hanno otto i coglioni questa versata Vabbè ve lo dico al cuore Ma no E prendila Ma La morte da tanda di mamma, tu! Vabbè, vabbè. E come cazzo è che non mi fischia il pallo, là? A pezzo di merda! Ciao! Non riesco a fare i cambi, ragazzi, incredibile, ragazzi. Non riesco a fare i cambi. Mamma mia! Ma vanno tutti dritto per dritto, ma non vi vergognate di chi? Ma io ho crossato! Ma dove stai domenica? Dobbiamo farla tutto per tutto. Grazie. 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 Ma vai a cacare, ma vai a cacare, ma vai a cacare, ma avete visto che cazzo è successo là, ragazzi? Ma vai a cacare, vai! Ma vai a cacare, vai a cacare! Ma guarda quanto ci mette! Maldini, substitution in progress. Maldini, ultime, non vi vergognate di compromised. Cioè non mi ha fischiato il fallo su chi è? Su Lumenica là. Su Messi. Incredibile. Ma guarda questo che ci ha battato gli agiati. No laga tre ore per girarsi dai vabbè dai vabbè. Da dove cazzo viene questo? Dal Buriondi questo raga. Ma dal Buriondi. Dal Buriondi viene. Ma da dove cazzo esce sto censo qua? Ma vatti un affanculo vai. Ma vai a cacare vai. Ma vai a cacare. Ma vai a cacare. Ma vai a cacare. Ma vai a cacare. Ma vabbè. Ma faccia dare. Ma questi quattro parassetti. Ma poi piace. Ma poi piace. Ma dai. Ma dai. Ma dai. Ma dove sei tu prima di visione? Ma di dove sei? Tedesco raga. Tedesco. Che schifo. Vai a fare in culo il gioco di...